Ciao, creatura. Io sono ecco di splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai e SMA. Aggiornamenti su Sam. Allora, su Instagram ho detto che sta molto meglio, in realtà non è proprio che sta meglio, non molto meglio, perché poi adesso ti racconto, creatura, eravamo rimasti dal fatto che doveva prendere antibiotico, cortisone, integratori, la dovevo lavare, la dovevo sbruzzare con il cibo. Non è proprio cicatrizzante. Allora, siamo ancora nella fase in cui devo lavarlo ogni giorno, perché è troppo ciccia, troppa pancia, non riesce a lavarci da sola. Devo ancora darle l'integratore, perché abbiamo finito con l'antibiotico, il cortisone, eccetera, eccetera. Però, qualche giorno fa, ho visto che faceva la pipì col sangue, quindi ho detto ma che cacchio qua non è guarita. Cioè è guarita che non ha più ferite sul sederino, diciamo così. Però fa ancora la pipì col sangue, pensavo che il sangue venisse dalle ferite, invece probabilmente viene da dentro e questo è un problema. Allora, sono andata a acquistare il kit, quello per la raccolta delle urine, che ti ho mostrato in un video, no, nelle storie di Instagram, quindi se mi segui sai questa cosa. Il giorno che ero a chiappa alla ricerca di quell'acqua profumata, che poi ancora non l'ho trovata, ma anche lì farò un vlog a parte. Una cosa per volta, ecco, non accavaliamo i discorsi e gli argomenti, però quel giorno lì, se mi segui su Instagram, l'avrei visto, ecco, ero solo per farti capire. E sono andata appunto a prendere questo kit che si trattano di, è una specie di lettiera, chiamiamola così, composta da berline di non so quale materiale, che non assorbono la pipì. Insieme c'è una pipetta e una fialetta con un tappino, si toglie tutta la lettiera, tutta la sabbietta dalla lettiera del gatto e si lava bene, si posizionano queste berline di plastica, credo sia, non so, e al posto della sabbietta e si attende pazientemente che il gatto decida di fare la pipì lì. E l'ho tolto tutte le possibilità, ho detto, o la fai lì, o la fai lì, non c'è, non andavo mai, ho aspettato tutto il giorno perché non volevo mai andare a fare la pipì lì. E ha fatto la pipì finalmente, sono riuscita a avere un assorbo, no? Tu vai con questa pipetta, fai tipo un contagocce e assorbi, tira sulla pipì e la trasferisci sulla fialetta. Non ne aveva fatta tanta, dopo quando sono tornata a casa l'aveva fatta un sacco, ho detto, ma porca miseria, appena ho portato le urine, che ce n'erano poche, speravo appunto che bastassero, invece per fortuna bastavano. E hanno fatto, l'ho portata dal veterinario e hanno fatto il test subito e non mi hanno detto se è tutto a posto, ok, ti mandiamo un'email, se invece vediamo che c'è qualcosa che non va bene, ti chiamiamo. E indovina un po', mi hanno chiamato e quindi la cistite ce l'ha ancora e anche perché l'antibiotico che aveva preso non era per la cistite, mi hanno dato solo quello per la dermatite, vabbè si vede che non ne può prendere tanti insieme. E quello della dermatite, la dermatite è guarita, però appunto ancora la cistite ha dei cristalli nella pipì e che le vanno a irritare le pareti, quindi per quello ha il sangue. E poveretta, questa cistite non le passa, però anche mio zio in questo periodo ha avuto la cistite, ha avuto tipo la febbre per una settimana e ancora non è guarito, quindi figuriamoci i gatti, polini. E l'abbiamo anche pesata, io tutta contenta perché sicura al 100% che è dimagrita, perché la prendo in braccio ed è più leggera, non ha più quella pancia super grossa, ce l'ha ancora un po' di pancia, però visivamente è tanto più magra, anche perché mangia tanto meno. La pesa c'era, non era la dottoressa dell'altra volta, c'era un dottore che non aveva mai visto giovane e la pesa lui pesa di più, ingrassata, come è possibile? Cioè non è neanche possibile una cosa del genere, non puoi dirmi che pesa 7-10, poi la vado a pesare due settimane dopo quando è palesemente dimagrita, 7-10. E quindi non ho capito, cioè ci sono rimasta malissimo perché o la volta prima l'avevano pesata male o la volta dopo hanno pesato male lì perché non può essere ingrassata se mangia nettamente molto o meno di prima. Cioè non si spiega sta cosa in più visivamente più magra, quindi ha messo il suo muscolo, non so. Questa cosa mi ha fatto restare malissimo perché appunto io ero convinta 100% che avrebbero trovato il peso più leggero. Quindi non so questo in topo cosa sia successo, però vabbè. E quindi oggi sono rimasta malissimo. Cosa abbiamo fatto? Gli hanno fatto una puntura di antibiotico per appunto le vie urinarie e per la vescica. E c'è non devo dare altre medicine perché quella puntura lì che ha fatto il veterinario basta per due settimane quindi è a posto. E poi gli integratori deve continuare a prenderli e mi fai, devi dargli questi, se sono diversi da quelli che gli stai dando devi comprare questi. Io ho detto, sono arrivato a casa e gli sto dando gli stessi dentici quindi a posto. Non ho sbagliato fino adesso, anche perché me l'aveva detto l'altra veterinaria, il suo collega, quindi... Ma un po' sembrava che lavorassero per due studi diversi, è stato molto strano. Io devo usare praticamente integratori e abbiamo cambiato tipo di croccantini di nuovo, quelli più costosi dell'universo. Quindi adesso se li trovo su Amazon li metterò nella lista desideri, farò una lista desideri Sam. Se qualcuno vuole contribuire a comprarli di mese in mese, grazie, Sam ringrazia. Sam farà dei contenuti speciali solo per la persona che li regalerà. E' avvicino che fa casino. Tipo OF, però sono il gatto, però non porno ovviamente. Sapevo che saremmo arrivati a questo punto, prima o poi, nella nostra esistenza. Comunque lei ha a costo. Fa 12 anni. Se volete regalarle qualcosa ci farò la lista con i croccantini che prende lei, che costano tipo... Allora dal veterinario me li aveva presentati, aveva il prezzo apprezzati 32 euro di qualcosa. Sono andata nel negozio questo qui, dove mi rifornisco, prendo adesso, ho preso tutte le cose per Sam, anche il kit per l'urine. E 27 euro, 28 euro insomma. Quindi dipende da negozio negozio. Però la marca deve essere quella, quel tipo Lucia lì. E quindi, niente, per gatti sterilizzati, sovrappeso, che non fanno tanto movimento, che hanno problemi alle vie urinarie, insomma, tutto quello che ha Sam. Quello del negozio di animali mi ha detto che tre gatti su quattro hanno questi problemi, quindi vabbè, diciamo che per 11 anni c'è andata bene, adesso la vecchiaia si fa sentire, vabbè, ci sta. Ma magari anche senza mangiare qualsiasi cosa le sarebbe avvenuto, quindi... Io ho avuto degli animali che abbiamo seguito le cose come dovevano essere, poi sono comunque ammalati, quindi... Perché di qualcosa, come si dice, bisogna morire, quindi... Anche la persona che sta super a dieta, che non fuma, potrebbe essere che gli viene comunque un tumore, quindi... Lì, vabbè, non si può prevedere il futuro, però comunque io la aiuto adesso finché c'è, come posso. E quindi continuerò a lavarla, a darle l'integratore, a darle i suoi 70 grammi giornalieri di cibo. Voglio vedere se non dimagrisce, questa cosa mi è rimasta qua, comunque, che la turo, ma facerò qua. Perché, cioè, è palese che sia dimagrita come è possibile, che adesso pesa di più, cioè non ha senso, c'è qualcosa che non va. Queste bilance non riesco a capire, mi fa e pesa anche tu a casa. E non ce l'ho la bilancia, con cosa la peso? Vabbè, e quindi, niente, questo è il riassunto, diciamo, più o meno dell'aggiornamento, della pesata di Sam, che è andata veramente malissimo. Io delusa, veramente, ma non mi spiego neanche come sia possibile questo errore. Se è ingrassato, non mi ha fatto ingrassare mangiando meno. Boh, non lo so. Cioè, palesemente, alla vista è molto più dimagrita, e anche quando lo sollevo non pesa più come prima. Prima si faceva davvero fatica, e lei dava anche fastidio. Era infatti un brito che non l'avevo più presa in braccio, perché quando l'alzavi, la vedevi che era tipo, invece adesso, viene su che è una meraviglia, quindi... Boh. Vabbè, fammi sapere se hai qualche idea del motivo per il quale è successa sta cosa. Io, comunque, creatura, ti terrò aggiornata, perché ormai Sam è la mascotte del nostro canale, e quindi, cioè, è giusto che tu sappia delle sue magiche avventure, anche in negativo, e perché magari può servire anche a qualcun altro la mia esperienza, oppure la vostra esperienza può servire a me, Sam. Non farà più videoassaggi, ovviamente, e speriamo che dimagrisca e che le passi questa dannatissima cistita, che mi dispiace un sacco, e le darò sempre cibo super, anche col tuo aiuto, forse cibo, quello lì che deve mangiare, urinari, e basta. Una cosa, non ho chiesto l'acqua, io le do quella del rubinetto, sto sbagliando. Questo mi son dimenticato di chiedere, ma tanto tra due settimane avremo di nuovo l'esame del sangue, no, del sangue, scusa, l'esame delle urine, quindi magari così più dell'alta veterinaria, perché mi sono trovata meglio, comunque devo staccare, perché vicino, vedi i vicini stanno facendo dei brutti rumori, quindi, ok, a posto così, io ti ho fatto l'aggiornamento, ti auguro una notte, buon relax, ciao, creatura.